Ciao e benvenuto da Raffa, oggi voglio ragionare con te sull'affiliate marketing molti mi hanno scritto, vedono di solito i miei video e mi hanno detto vogliamo dei consigli voglio partire, voglio capire come funziona il mondo delle affiliazioni tu hai un'esperienza tale, mi puoi dire e consigliarmi quello che devo fare? ok, allora io come ho detto faccio affiliate marketing dal 2013, tutt'oggi faccio quello mi muovo tra l'affiliate marketing e il dropshipping, in questo video voglio ragionare con te solo l'affiliate marketing allora l'affiliate marketing si può fare, possono esserci commissioni elevate a volte puoi anche chiudere una vendita a 500, 1000 euro ed è quello il business di affiliate marketing a cui tu devi puntare capisco bene che all'inizio è difficile, forse non hai mai fatto online marketing non hai mai attuato una strategia, quindi io se ti devo consigliare l'affiliate marketing te lo consiglio, te lo insegno anche all'interno del mio percorso formativo anzi lì hai le capacità, gli strumenti per riuscire a promuovere sin da subito prodotti ad alto costo che è quello poi che ecco perché conviene l'affiliate marketing quindi se hai questa idea di fare affiliazioni vai sotto al video, clicca lì e prendi il mio corso che è molto molto specifico anche per l'affiliate marketing comunque per chi vuole iniziare l'affiliate marketing in Italia è un problema perché in Italia tutte le offerte che ci sono sui vari portali network che offrono appunto link da promuovere diciamo sono tutti prodottini, prodottini da 19,90, 29,90, 59,90 va bene, va bene per chi inizia, per chi non ha una concezione neanche del marketing online quindi va bene iniziare e farsi le ossa come io uso dire su questi prodottini ma puoi farlo un mese, due mesi giusto per prendere la mano, giusto per capire quali strategie attuari ma poi che puoi fare? cioè se tu vuoi fare soldi online con l'affiliate marketing la risposta è sì ma la risposta è no se lo fai in Italia o con prodotti italiani infatti ecco perché io faccio affiliate marketing e promuovo altri articoli sia in Italia e soprattutto in America perché? perché l'affiliate marketing per quando concerne l'America ha tantissimi prodotti ci sono tanti portali, tante aziende network che ti danno la possibilità di accedere al loro programma di affiliazione e soprattutto è un affiliate marketing high ticket perché poi devi contare il tempo che perdi per costruire i tuoi funnel per produrre strategie di marketing i costi che hai per portare persone a conoscere la tua offerta di affiliazione quindi lanciare prodottini di affiliate marketing come in Italia sì ci sta, puoi fare anche 2000 euro al mese a volte però ci sta solo per iniziare per capire appunto il metodo, le strategie di attuare poi non puoi far altro che passare ad aziende americane quindi io quello che consiglio a chi come te vuole entrare nel mondo dell'affilazione lo puoi fare puoi scegliere, anzi ti consiglio di non andare sui vari network dove ci sono pochi prodotti italiani ma di andare direttamente alle aziende in ogni sito, in ogni grossa azienda multinazionale che lavora anche in Italia tu basta che vai sotto al sito dove ci sono i contatti, le informazioni c'è anche la parola programma di affiliazione se quell'azienda prevede appunto degli affiliati quindi è molto meglio andare sui siti delle grosse aziende perché lì le commissioni si alzano puoi trovare anche commissioni al 30, 40, 50% e quindi se è un prodotto che tu promuovi ti dà una percentuale di margine di 300 euro va bene se vuoi iniziare direttamente così se vuoi iniziare a farti le ossa vai con i prodottini ma tempo, due mesi, lascia di stare oppure se vuoi cominciare a fare affiliate marketing nel senso che tu dici io voglio guadagnare 4-5 mila euro al mese vai nei siti americani, vai nei network americani ovviamente le tue sponsorizzate devono essere anche in inglese non puoi permetterti di andare a promuovere prodotti ai ticket americani con delle sponsorizzate in italiano, con un funnel, un sito in italiano questo no io quindi ti do questo consiglio per quanto riguarda l'affiliate marketing e ti dico io oggi faccio affiliate marketing, faccio dropshipping ma mi promuovo soprattutto in America con prodotti americani ho promosso software di trader ho promosso droni americani ogni vendita di un drone americano mi portava anche 900-800-1000 euro di commissione ma parliamo di droni che hanno un costo di 5.000 dollari, 6.000 dollari quindi è chiaro che se vuoi fare affiliate marketing duraturo un business liquido profittevole nel tempo e che ti porti anche a marginare quei 4-5 mila euro al mese devi andare su questi prodotti quindi io non ti sto qui a inventarti storie fantastiche sulle affiliazioni in Italia prendi il mio corso e guadagni 5 mila euro al mese no io ti dico che se vuoi iniziare l'affiliate marketing puoi farlo ti ho detto anche come farlo all'inizio e come sviluppare poi il tuo business se vuoi capire poi le strategie perché come ti dicevo il marketing online è strategia ogni prodotto può essere venduto solo se esiste una strategia che attrae, educa e chiude la vendita quindi se vuoi capire anche quali strategie utilizzare clicca sotto al mio video c'è il mio link del mio percorso è un percorso che in soli 3-4 settimane ti permette da zero a capire come promuovere qualsiasi offerta o di un prodotto tuo o come stiamo dicendo in questo video in affiliazione quindi ti consiglio questo e poi successivamente farò anche altri video sul dropshipping altri video specifici sull'affiliate marketing ma spero di averti aperto gli occhi sul mondo delle affiliazioni soprattutto in Italia un caro saluto da Raffa grazie a tutti